Lo immagini, sempre che siamo nella fantapolitica, Renzi, delfino di Berlusconi, che Berlusconi dopo aver ammazzato una serie di delfini metaforicamente, poi a un certo punto investe Renzi, no eh? No, Renzi non è un delfino, Renzi è Renzi, il che vuol dire che... È uno squalo, ha detto Renzi. Renzi è uno squalo. Un squaletto. Vabbè, comunque potrebbe essere anche una verdesca, che è un piccolo squalo anche di origine vegetale. No, è bellissimo, è un sacco di peci, io non l'ho saputa. Beh, Alessandra sì. Allora, Alessandra la ringrazio per essere stata con noi, vado in punto.